Posso dire due parole solo io, vi spiace? Assolutamente, giusto. Anche se magari mi conoscono tutti, però un disclaimer. Per quanto sia un affassionato di software engineering, perché ci ho fatto la tesi nel 94, qualche settimana fa, cominciamo a dire su cosa non mi dovete fare domande, così gioco in casa, se no diventa veramente complicato. Io l'ultima lega di codice l'ho scritta nel 2000, quindi insomma ho un'idea abbastanza vaga di tutta una serie di cose ormai, questa per correttezza. Io sono molto interessato invece alla parte di, come dire, cultura aziendale, che è una cosa che secondo me un buon software in un'azienda schifosa è anche, credo, difficile farlo, perché se sei circondato da un ambiente devastante diventa secondo me difficile anche fare la parte tecnica bene. Scusate, è arrivata la cena, vi saluto, magari lo riaggiungo dopo. Ciao, buona pappa. Grazie, ciao, ciao. Aggiungo solo un'altra cosa importante giusto per essere ancora disruptive, coltivo due cose, una la terra, quando posso e quando riesco, e l'altra giusto perché stasera mi tocca dare risposte, coltivo l'arte del dubbio. Quindi io ho scoperto che più si va avanti con gli anni, meno si hanno certezze. E questa purtroppo è una tragedia clamorosa, ma questo vuol dire che io ho delle idee o delle opinioni, ma sono in costante e anche a volte rapido cambiamento. E quindi l'arte del dubbio è una cosa che davvero mi fa sempre più, fa sempre più parte di me. Quindi non mi voglio sottrarre a tutto perché ho smontato sia la software engineering culture che il fatto di dare risposte, giusto per cominciare alla grandissima. Cioè nonostante, andiamo avanti. Ma sai che credo di essere il primo con una domanda? Vai! Almeno mi sono prenotato. Poco poetica, ma siccome sei qui, ti voglio chiedere che cos'è un managing director? E che cos'è, cosa vuol dire farlo in Sensei? Managing director e CEO sono sostanzialmente la stessa roba detta alla UK e alla USA. Ok. Il managing director è un altro modo di dire CEO. Purtroppo, o per fortuna, non lo so, vanno tanto di moda le sigle per cui in realtà anch'io adesso sinceramente uso CEO. Però siccome sono un grandissimo appassionato di LinkedIn, ho lasciato managing director tipo da 20 anni, 20 anni no perché non lo facevo, da 10 anni e non mi sono mai curato di cambiarlo. Ok. Farlo in Sensei, e qui però potrebbe rispondere più furda di me perché io lo guardo da dentro e quindi è un gioco estremamente rischioso parlare sempre di, o parlare troppo di se stessi. Vabbè, non voglio fare lo spot di Sensei. Sensei ti dico solo cosa vuol dire per me. Per me vuol dire avere una grossa responsabilità, perché comunque ci sono quasi 30 famiglie che si portano a casa da mangiare ed è una cosa di cui io mi sento la responsabilità ultima. Se volete che vi dica quanto è facile in questo periodo, ve lo dico, è palesemente una cazzata, però per me vuol dire semplicemente, scusate, faccio il solito gesto che a me non piace tanto, però io non penso all'azienda così, penso all'azienda così. Quindi questo per me è fare il mio lavoro. Proprio la sintesi condensata di tutto il pensiero in questa brutta immagine, ma è esattamente questo. Quindi chiamate la servant leadership, post leadership, come volete, tutte cose molto belle. In realtà io non penso che le aziende così funzionino, penso anche che le aziende così funzionino un po' meglio, ma poi è bella l'olacra, visto che tutti la conosciamo e così via. Quindi per me quello che vuol dire è fare il contrario di quello che fanno i manager di solito. I manager sono famosi perché lasciano passare la merda e fermano i meriti. Io penso che il lavoro del manager debba essere esattamente il contrario, prendersi le responsabilità, fermarle, schermare i suoi e lasciar passare i meriti. E poi vuol dire ovviamente dare una strategia all'azienda, quindi cercare di tenerla sempre con la barra a dritta, sapendo dove andare, avendo sempre questa doppia cosa che è strategia e tattica, perché se tu guardi solo avanti, chiunque di noi cammina guardando solo lontano, poi calpesta qualcosa che ci hai lasciato per terra ogni tanto, e non è il caso di calpestarlo. Se cammini guardandoti i piedi, quindi fai solo tattica, non è la strategia, e camminando con lo sguardo basso un palo in testa prima o poi lo prendi. Quindi per me fare questo lavoro vuol dire avere anche sempre questo costante strabismo di vista corta e vista lunga, non è strabismo in realtà, è dualismo, chiamiamolo, di vista corta e vista lunga. È l'unico modo in cui io riesco a fare questo mestiere, sinceramente. E poi l'altra cosa che mi piace provare a fare è avere intorno a me persone con cui si riesce a lavorare bene. Quindi per me vuol dire anzitutto la libertà di potersi esprimere. Se io vi facessi vedere le chat che faccio con Furdo, ovviamente, per esempio, penso molto aperte. Furdo sono io, furdo sono io. Sì, scusate, Francesco, scusate, è l'abitudine. Francesco, scusate, è l'abitudine. Io se volete mi scollego un attimo, lascio parlare lui e poi ritorno. Però ecco, diciamo che a me piace molto pensare che ci sono ruoli e responsabilità diverse in un'azienda, ma non può che essere così, ma poi le persone sono persone. E' l'unico modo, ed è il motivo per cui alla fine mi sono trovato costretto, che non è la parola giusta, era più in un'azienda. Cioè, quando proprio non ce la fai, non ce la fai, non ce la fai, sei incastrato in dei meccanismi che non comprendi. Ecco, poi stiamo sul neutro e mi prendo la mia par. Che non comprendi, provi a fare un qualcosa che comprendi. e il problema, e qui lo dico subito, io sono contrario all'esistenza di aziende piccole come Sensei. Tu dici, che cazzo l'hai fatta fare? Bella lì. E non so, c'è sempre il trucco. Il problema è che la presenza di tante aziende come Sensei poi fa dell'Italia l'Italia. Quindi una nazione piena di aziende piccole che poi sono sottocapitalizzate, fanno fatica a fare investimenti, non possono competere sul mercato internazionale, e così via. E infatti, ma qui dico una cosa che Furda sa, scusate Francesco, sa da tempo, anzi da prima che entrasse in Sensei, io sono un grande fan dell'emergent acquisition, che invece in Italia è una cosa che si fa con una fatica bestiale, perché tutti pensano di essere Bill Gates e preferiscono avere il 100% della loro azienda di 7 persone che il 5% di un'azienda molto più grande. E questo è un problema culturale gigantesco in Italia, in quale però non entro, sennò rispondo a 100 domande che non mi avete fatto e non lascio spazio a voi. Credo che dopo di me si sia prenotato Michael, tra l'altro, dentro alla chat. Sì, anche se in parte, come ha già detto Luca, con il managing director abbiamo aperto il vaso di Pandora, ha toccato già un sacco di cose che io volevo chiedere come domande separate. Comunque la butto lì, consapevole che anche questo è un tema abbastanza ampio. Tu hai descritto la tua visione di un ruolo, di una funzione aziendale, che è il managing director, CEO, chiamiamolo come vogliamo, e di quello che è il tuo approccio alla cosa. Però tu immagino sei anche uno dei, se non il fondatore di questa azienda. Uno dei. Uno dei. Uno dei. E quindi potenzialmente sei anche un imprenditore, oltre a essere il managing director, ti definisci anche imprenditore. E questa è una domanda che a me piace fare spesso e ho sempre avuto delle definizioni molto diverse. Tutte le persone hanno una definizione loro, sia dell'imprenditoria che dell'essere imprenditore. E quindi te la faccio anche a te. Cosa vuol dire per te essere imprenditore e cosa vuol dire per te fare impresa? Allora, bella domanda. Allora, comincio a dire, dico una cosa che ho dimenticato in quello che ho detto prima. Una parte essenziale del mio lavoro è oliare meccanismi. Io ho anche la responsabilità ultima del fatto che gli altri lavorino bene e quindi devo fare in modo che ci sia tutto liberato. Questa è una cosa non banale. Comincio a risponderti con una cosa fondamentale. Io sono, e anche qui sono in contraddizione con me stesso, ma lo dico senza problemi, io sono abbastanza contrario a chi fa l'imprenditore e l'amministratore contemporaneamente della sua azienda. Perché credo che sia una commissione di ruoli che può essere pericolosa. Perché è la stessa cosa che dicevo prima, no? Tu stai dentro al gioco quando invece come imprenditore dovresti guardarlo da fuori. Ok? Quindi su questo ammetto immediatamente il mio essere in contraddizione con me stesso. Banalmente, ma credo che in senso è lo sappiano tutti, io sarei felicissimo di lasciare la mia poltrona da D, a cui sono legato in maniera molto blanda, sinceramente, per fare solo l'imprenditore. Vuoi sapere perché non lo faccio? Quattrini. Non ce n'ho abbastanza per pagare uno che fa sto mestiere, oltre al fatto che dovete trovare uno che mi piace. Questo è questo. Vedo che furda ride... Vedo che è Francesco che sta suggerendo una candidatura. Ha voglia camminare, ha voglia camminare, amico mio. Fra qualche anno ne parliamo, se vuoi. Intanto ti si è liberato una poltrona. Perché il nostro responsabile commerciale di Sensei a fine luglio va in pensione. e quindi ovviamente si è liberato una poltrona, ma per modo di dire che il concetto di poltrona non è inesistente. Comunque, per tornare a quello che dicevi. Quindi, per me, fare l'imprenditore è quello che in realtà io faccio oggi esercitando dentro la parte dell'amministratore, anche quella dell'imprenditore. Cioè, l'amministratore è delegato, lo dice il nome stesso, è delegato. È un po' come l'amministratore di condominio. Non decide lui cosa fare. Lui esegue quello che i shareholder del condominio, cioè i condomini, sorprendentemente, gli dicono di fare. Copia e incolla, anzi, cerchi e sostituisci, dovrebbe essere la stessa logica. Quindi, una cosa che funziona bene, tu hai l'imprenditore che dà la direzione strategica, ovviamente insieme all'amministratore, perché non è che possono essere due che non se la raccontano in nessun modo, ma insieme si definiscono e poi l'amministratore attua. In questo momento c'è un'implosione di queste due figure dentro la mia stessa persona e, ripeto, non sono un fan di questa cosa, ancorché sia estremamente diffusa, bla 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 bla. Ma secondo me, una persona che invece osserva anche lo scarrafone dall'esterno, pur essendo figlio suo, è un bene. Il giorno che avrò i quattrini per farlo, vi do la mia parola, lo farò. Non so se ti ho risposto, se ti manca un pezzo, ti prego di andare avanti, No, no, ognuno ha la sua risposta. A me va benissimo quello che hai detto, oliare i meccanismi, i granaggi. Quello però è da amministratore, non è da imprenditore. Allora da imprenditore non mi hai risposto, perché hai sterzato... No, te l'ho detto, da imprenditore per me è dare la strategia all'azienda. Dare la strategia all'azienda. Assolutamente, l'imprenditore dovrebbe fare le scelte, non so, per esempio, voglio acquistare, fare un'acquisizione, è una roba secondo me da imprenditori, vendere l'azienda banalmente sì, ma scegliere di fondersi con un'altra società è una scelta dell'imprenditore, anche perché l'amministratore non la può fare, ovviamente. Questo tipo, anche, non so, aprire una sede da un'altra parte è una scelta che, secondo me, l'amministratore non dovrebbe fare senza il coinvolgimento dell'imprenditore. Certo. Ok? E così via. Quindi, su tutte le scelte di strategia che hanno degli impatti strategici, secondo me, minimo, l'amministratore e l'imprenditore devono andare insieme. Io, personalmente, per come sono fatto io, che credo tantissimo nel fatto che più persone si tirano dentro, purché abbiano delle competenze, qualcosa di intelligente da dire. Banalizzo. Se devo parlare di M&A, tiro dentro il CFO, magari lo stagista non lo tiro dentro, perché non ha le competenze per parlare di sta roba. Ok? se devo parlare di una nuova business unit, tiro dentro il CIO oltre al CEO, perché mi aspetto che abbia qualcosa da dire e abbia degli impatti su di lui. E così via. Quindi, io sono abbastanza per allargare il numero di persone che partecipano alle decisioni, almeno, tanto per dirla, col design thinking nel momento della divergenza. Ok? Quindi quando butti le idee sul piatto e poi man mano comincia a scremarle. Quindi, su queste cose l'amministratore deve assolutamente stare lì e stare sul pezzo. Poi delega l'attuazione di quello che è stato deciso in sede strategica all'amministratore che appunto è delegato. Chiarissimo. Penso che sia una roba adesso io non ho mai studiato economia ma penso che sia una roba abbastanza ragionevole, semplice, insomma. Però, come hai detto tu, sono sicuro che avrai sentito mille definizioni diverse e 199 più intelligenti della mia. No, non c'è una risposta giusta. È anche uno come si vede, come si definisce, ecco. La domanda è più quella. Comunque hai risposto, perfetto. Dipende molto anche dal modello d'azienda, ovviamente. Sicuramente, sì. tutto questo se ne va. È un bel modello, a me piacerebbe riuscire ad applicarlo. Grazie Luca. Volevo fare un piccolo time out, volevo dire, io cercherò di moderare quanto servirà. Se non serve, fluisce, non è necessario che intervenga. Volevo dire due cose. La prima è che se avete problemi con il microfono, la domanda fatela pure in chat che la chiappo e la faremo a Luca. Altrimenti, usate la chat per prenotarvi così diamo un minimo di ordine. Il prossimo è Francesco. Sono curioso della domanda. Eccomi. Posso dire, scusa, un attimo una cosa. Massimo, scusami, c'è modo che si visualizzi una sorta di orologio in modo da non sbrodollare troppo nella risposta? Perché ho di più piatto riportare il telefonino con me e quindi sono senza un cazzo di timer. Se vuoi ti dico quando sfori un tot. Ok, ma tre minuti direi. Ok. Grazie Max. Fammi un gesto con le mani. Tipo così. Prego. Allora, vabbè, intanto io conosco Luca relativamente da poco tempo perché l'ho conosciuto l'anno scorso d'estate e l'anno fa l'anno fa, esatto. L'ho frequento dal 7 gennaio in maniera un po' più ossidua, covid permettendo e quindi tante cose poi le sto scoprendo. Una cosa che mi ha colpito e che secondo me serve a inquadrare che personaggio è è una domanda che gli è stata fatta ad un nostro potenziale cliente di cui io so la risposta. mi ha particolarmente colpito e vorrei che vi raccontasse anche a voi da dove viene il nome Sensei. Oh Maria Vergine, Dillo tu, scusa se... No, 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 perché come l'hai raccontato tu mi è piaciuto. Scusami, vuoi che... Ah, ho capito, erano i tuoi amici di... Boh, non mi ricordo come si chiamano. Dillo. Ma vuoi tutto... Bravo, Dillo. Vuoi tutto lo strippone o solo significato... Io voglio che fai lo strippone. Penso che ci stai nei tre minuti. Strippone in tre minuti. Stavamo cercando il nome dell'azienda. Ognuno ha messo... No, aspetta, faccio una premessa. Il motivo è che secondo me il modo con cui tu sei arrivato a fare questo nome e comunque fa capire quanto ci tieni alle cose e quindi pur essendo tra virgolette solo il nome di un'azienda non è lasciato a un percorso di marketing a una società ma è tuo, lo senti tuo. Quindi mi è piaciuto questa cosa. Sembrerà una banalità ma a me ha detto tanto di te. Prego. Francesco si sta candidando per un aumento ve lo dico così è chiaro. Tra l'altro fra oggi mi ha chiamato il tuo vecchio capo. Dai! Mi ha strippato venti minuti vabbè poi ti racconto. Allora una questione semplice stavamo cercando sto nome di questa azienda da fondare e ognuna delle persone coinvolte in questo processo stava mettendo i suoi paletti vari per cui era chiesto che iniziasse per S era chiesto che non fosse un nome latino era chiesto che avesse un significato quindi che volesse dire qualcosa per fare due esempi a me è sempre piaciuto il nome di una società che adesso si c'è ancora forse che si chiamava Pride quindi orgoglio il nome Engineering pur essendo una società che qualche successo l'ha avuto visto che insomma sono 12.000 persone però è un nome che secondo me lascia poco di bello quindi insomma dopo un po' di 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 come si dice di di proposte tutte bocciate per vari motivi e una mattina mi sono alzato e ho tirato fuori dalla libreria un dizionario monolingua inglese quindi ricordate questo dettaglio un dizionario monolingua inglese e ho aperto a caso la lettera S ho frugato niente ho riaperto a caso ho frugato a un certo punto in mezzo a un dizionario monolingua inglese mi è saltata fuori una parola sensei giapponese che non è esattamente il luogo dove uno si aspetta di trovare una parola giapponese e quindi ho letto semplicemente la traduzione che è master anche se non è proprio la traduzione corretta e la cosa mi ha un po' intrigato io che sono una persona che crede nella sincronicità nel destino non nel caso sono due concetti radicalmente diversi e il fatto di trovare in un posto così bizzarro una parola di un'altra lingua mi ha acceso un attimo quindi sono andato a capire un po' meglio che voleva dire sta parola e l'etimo più i due i due i due diagrammi i due come si chiamano oh madonna non diagrammi oh madonna pittogrammi vabbè mi verrà in mente insomma i due disegnini che rappresentano ideogrammi ideogrammi grazie Fra grazie Fra i due ideogrammi sensi vogliono dire in giapponese indicano o significano colui che è nato prima di te quindi la persona che ti passa la sua esperienza che te la mette a disposizione diciamo quello che banalmente erano i nonni una volta i saggi e questa cosa mi è piaciuta molto perché è esattamente poi quello che noi cerchiamo di fare mettere a disposizione ahimè non gratis ma a pagamento perché non è qui non è il consiglio dei saggi di Atene dei senatori di Atene o di una tribù indiana dei nativi statunitensi e americani scusate quindi a pagamento non gratis però il concetto è quello di mettere a disposizione di portare la propria competenza la propria capacità in realtà è anche un nome un po' arrogante io lo dico sempre senza mezzi termini perché la traduzione che si usa di più cioè master o proprio maestro fa sì che ce la tiriamo un po' in realtà noi lo usiamo anche come modo per dire che ci riteniamo tutto sommato discretamente bravi nel fare il nostro lavoro e che su questo siamo pronti a essere messi messi alla prova sforato di poco Max grazie Furda per lo spottone prego next c'è qualcuno che non la faccio io una domanda ma io ce l'ho eh ce l'ho pronta una domanda per tutti vuoi fare vuoi vuoi fare la domanda però avrei bisogno o che tutti accendano il video è una curiosità che mi porto dietro da un po' di settimane ma può anche solo chi ha il video acceso non è non è importante può alzare potete può alzare zero mani o due mani che ha avuto un buon come dire chi si trova veramente bene da tutti i punti di vista a fare smart working o remote working che probabilmente è quello che che tutti stiamo facendo una mano che si trova così così e zero mani che si trova male quindi qualunque cosa fate date una risposta quindi vedo aspetta oddio vedo uno due tre quattro cinque una mano e tre due mani e io mi astengo ok grazie perché questa roba io ce l'ho qua sta roba perché secondo me sono tante cose che devono ancora uscire del lavorare full time da da remoto tutti gli aspetti relazionali le possibili disgregazioni all'interno dell'azienda questi sono dei temi che che non si vedono in così poco tempo tra l'altro il mio HR è in disaccordo con me su questo e ogni tanto ne parliamo però è un tema che così dipende molto dalla cultura d'azienda volevo solo dire che le mie due mani alzate sono non per il periodo di costruzione 100% che abbiamo avuto ma per lo smart working che stiamo facendo da un mese e mezzo a questa parte perché prima chiamare lo smart working è un po' grossa come parola prima avrei alzato zero ok 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 no ci volevo dirlo quasi nessuno grazie per il sondaggio e per il riscontro e che siete un pubblico più eterogeneo di quello che ho di solito quindi mi faceva mi faceva comodo raccogliere queste informazioni così rapidamente beh credo che comunque sia la cioè diciamo il problema dello smart working sia quello che dici tu cioè è il motivo per il quale magari molti di noi hanno fatto solo una mano il fatto del rapporto con le persone cioè è quello che ti manca perché poi se metti sull'altro aspetto cioè il tempo libero che hai a disposizione il fatto che a tempo zero sei in ufficio ufficio tra virgolette comunque in generale non hai problemi nel senso se hai una buona connessione a casa il nostro lavoro lo fai dappertutto cioè quindi perfetto il problema è sì se escludi se pensi che le relazioni non facciano parte del tuo lavoro esatto esatto cioè è quello che manca molto spesso però sai chi guarda agile come un paradigma cioè uno dei punti forti di agile è la copresenza fisica forse non a caso vi dico noi abbiamo fatto un abordo virtuale che se volete posso anche condividere senza problemi chiedendo a tutti di buttare i loro sì e no per l'impostazione di una politica vera e stabile di prima remote e poi smart working nessuno dei ragazzi ha scritto cinque giorni a settimana anzi molti hanno detto voglio almeno tre giorni alla settimana in ufficio e sono scritte anonime quindi nessuna forzatura niente di niente ed è venuta dal basso per tornare al modello piramidale che non mi piace ma insomma per capirci rapidamente e questo indica che c'è una 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 sensazione importante della necessità di un contatto personale che vale più del tempo di viaggio aperitivo dopo lavoro funziona uguale dipende se hai dei figli a casa magari non puoi permettere l'aperitivo dopo lavoro dipende molto anche da che vita hai nel senso che in che momento sei della tua vita chiaramente se hai molto tempo libero chiaramente hai più anche relazioni con i colleghi mentre sei una famiglia è diverso magari vuoi tornare a casa noi abbiamo una collega che non vede l'ora di tornare in ufficio perché c'è un bimbo di un anno e lei mi fa una fatica poi a lavorare è certo è veramente ma penso mia sorella lei suo marito e due figli che vanno a scuola quindi sono in quattro con quattro cazzi di tablet o pc in quattro stanze diverse adesso loro sono fortunati in una casa grande e tutto quello che vuoi però non è così lineare che in una famiglia normale ci siano quattro stanze dove quattro persone possono stare separatamente più o meno isolate a fare il loro lavoro sì sì ma infatti secondo me uno dei grossi problemi adesso è appunto il discorso che vabbè adesso siamo a luglio però le scuole sono assenti quindi i genitori chi ha figli deve tenersi in casa e lavorare con i figli a casa secondo me è impossibile cioè chiediamo a furda non lo so no no la mia è una sensazione non ho figli ancora Luca e i colleghi conoscono tutti i miei bambini perché si presentano salutano qualunque riunione qualunque sono sempre sempre c'è un mio collega che si chiude dentro una stanza e fortunatamente la moglie non lavora e se no la senti sua figlia in giro è forte e io credo che sia quello il discorso dello smart working più o meno che può piacere cioè le risposte secondo me Luca te le danno in relazione a che vita hanno le persone che gli rispondono il problema è che io non posso fare una policy diversa da persona no no certo poi io devo riuscire a tenere insieme e qui adesso la dico brutta perdonatemi ed è qui che ti rendi conto di essere o il vertice della piramide o il fondo dell'imbuto se la gira al contrario quando tutto si collassa su questo quando devi prendere questo tipo di decisioni lì ti rendi conto proprio che devi riuscire a provare a tenere insieme tutto e il contrario di tutto in cui sia tutto e il contrario di tutto hanno forte motivo di esistere e ragione di esistere e trovare il punto di mediazione perché poi non puoi fare una policy per cui ognuno fa un po' quello che vuole se no non è più una policy quindi è un gioco divertente scusate bye Max volevo prendere parola per continuare il round delle domande dato che non c'è nessuno prenotato proseguo io ok Francesco sta condividendo qualcosina vuoi fare la domanda? ok te la faccio fare dopo io volevo collegarmi alla questione del remote working smart working eccetera tirando qui un argomento attuale che è quello del covid e mi chiedevo quale quale è stato e qual è l'impatto del covid sull'azienda Sensei quello che vuoi condividere da quale punto di vista? dal punto di vista che vuoi affrontare che vuoi affrontare allora facciamo dal punto di vista delle relazioni sociali ovviamente allora io parto da una cosa che a me sembra semplice che ogni tanto sorprende qualcuno ci sono tre livelli di analisi parlo delle relazioni sociali uno è il livello personale quindi l'impatto che starsene a casa a manetta ha sul singolo e ovviamente questo per vederlo devi essere più o meno un drago perché per quanto tu sia una persona sia un bravo HR è chiaro che avendo le persone che gli girano in ufficio se l'hanno usa molto lì più invece però un HR non può telefonare o fare una videocore ogni giorno con tutte le persone dell'azienda quindi lì già perdi un pezzo due ci sono le relazioni intragruppo e quelle sono quelle che secondo me si salvano un po' di più e poi ci sono quelle che tendenzialmente vengono più disgregate che sono quelle intergruppo cioè da noi quello che abbiamo visto e cui stiamo cercando di porre rimedio è che le persone della stessa squadra di lavoro continuano a parlarsi più o meno come prima ma Luca e Denise non si parlano più o si parlano molto meno e questo portatelo a sistema perché i pranzi non ci sono più il caffè non c'è più il bigliardino non c'è più la torta il compleanno non c'è più tutto quello che il cazzeggio della battuta non c'è più e quindi tutto quello che è non relativo al progetto ma è quello che fa azienda e fa cultura condivisa in azienda viene tendenzialmente molto lascato e questa parlando con persone di diverse altre aziende non è un'esperienza solo nostra e quindi bisogna stare molto attenti secondo me nel medio lungo periodo alle relazioni di persone intergruppo immaginate una persona che entra in azienda si infila in un gruppo di lavoro e per lui l'azienda è solo quella o soprattutto quella quando cambia gruppo per lui è sostanzialmente come cambiare azienda e questo non è un bene e poi mancano i veicoli veramente di condivisione della cultura ed è un problema veramente grosso a cui bisogna capire secondo me come porre rimedio e ci stiamo ragionando ci stiamo abbastanza tanto grattando la pera su questa cosa non abbiamo il cyberbullet non l'abbiamo ancora trovato ma ci dobbiamo in qualche modo arrivare sugli impatti economici ti dico molto francamente secondo me per chi fa il nostro lavoro l'onda lunga non di acqua deve ancora arrivare e non sarà acqua vi assicuro il periodo settembre dicembre lo dico proprio molto semplice sarà un cazzo di casino per il semplice fatto che quest'anno i budget saranno ridotti da tutti pressoché tutti tranne qualche caso raro ma andiamo sui numeri grandi saranno largamente ridotti da tutti e il 2021 chissà quindi i progetti cosa sta succedendo i progetti che erano in essere vanno a compimento non saranno sostituiti se non in piccola parte da progetti nuovi e questa è una cosa su cui mi confronto quotidianamente con altra gente che fa il mio mestiere quindi la vede dal punto di vista del CEO di una società che fa system integration noi abbiamo la fortuna di lavorare pressoché in maniera esclusiva con clienti finali ma chi lavora sotto i grandi system integrator sta messo pure peggio di noi perché ha ovviamente il system integrator cosa fa? prima fa lavorare i suoi ma è banale oltre che è un dovere e quindi tu aggiungi a delle marginalità basse il fatto che ti mollano a casa le persone questo è un problema gigantesco ciò nonostante vi dico sinceramente ecco uno dei miei grossi mal di pancia è stato dover dire alle persone signori qualcuno di voi finirà ed è finito Francesco che qui lo può testimoniare lui stesso settimana prossima posso dirlo fra sei stato messo in cassa integrazione lo dichiaro pubblicamente non so se puoi farmi causa ma spero tu non lo farei comunque però ecco questa personalmente è una cosa che per me no non ti sento fra il microfono spento non lavorerò neanche un giorno non preoccuparti grazie non mandare neanche un mail questa per esempio per come sono fatto io è una cosa che a me dà dei mal di pancia che non avete un'idea l'idea di sottrarre una parte di reddito alle persone mi fa molto male molto male però io l'ho detto in maniera chiara io ho come bene supremo l'esistenza dell'azienda e non posso che mettere questa cosa davanti a qualunque altra peraltro Furda ti chiamo a testimone io mi sono messo da solo in cassa integrazione retroattivamente da gennaio e ho dichiarato davanti a tutta l'azienda che sono stato il primo a entrare retroattivamente e sarò l'ultimo a uscire perché management by example è una cosa che non puoi non fare o walk your talk come dicono quelli che hanno studiato l'inglese perché poi no come dire sono belli i manager che si dimezzano lo stipendio sì ho capito ma sti cazzi tu prendi 250.000 euro ne prendi 125 per carità sono tanti quelli che rinunci però forse no e quindi però per tornare a come stiamo cercando di farlo noi io ho cognato questo motto che mi è piaciuto quando mi è venuto in mente noi in realtà stiamo cercando non di nuotare dentro a questa situazione ma di surfarci sopra perché nuotare quando l'onda è così importante che sia di acqua o di altro rischio di farsi male per quanto tu sia un ottimo nuotatore quando l'onda è così alta tu non riesci a contrastarla se sei figo a surfare io non ho mai surfato nella vita però se sei figo a surfare e non sto dicendo anche che noi siamo fighi sto dicendo che ci stiamo provando se riesci a surfare su un'onda grossa ti diverti come una bestia allora noi stiamo cercando di surfare che cosa vuol dire questo vuol dire che abbiamo cominciato a fare delle cose che prima non facevamo diciamo una cosa che prima non facevamo abbiamo cominciato a fare comunicazione in un modo un po' diverso per quanto vedete che il nostro LinkedIn è ancora assolutamente vuoto però abbiamo cominciato a comunicare con i clienti tramite dei canali che prima non usavamo abbiamo stretto una nuova partnership con un prodotto che è MuleSoft ci può dire senza problemi che speriamo ci porti soddisfazione così stiamo facendo delle iniziative a vendere servizi diversi da quelli che vendevamo prima quindi stiamo cercando di riconfigurare noi stessi come approccio al mercato e come anche offerta al mercato in un modo che ci sembra che possa portare maggior valore ai clienti a noi di stare meno male possibile in questa situazione per dirla con la frase di prima stiamo cercando di surfare cioè di non farci travolgere dall'onda ma di provare a tirar fuori del bene da una situazione che bella non è ragazzi perché tra l'altro a mio personale parere il meno 12 di PIL ma magari ma magari ma magari perché poi c'è un piccolo dettaglio che viene trascurato cioè che le aziende oggi non possono licenziare le persone perché quando toglieranno questo vincolo vi assicuro che tanta pulizia bella o brutta cioè che davvero serviva o come dire fatta per motivi strumentali rischiamo che sia fatta magari non nel nostro settore ma in tanti altri settori sì se la disoccupazione generale passa dal 10 al 13 per cento e io scusate prima di essere un imprenditore io sono un cittadino italiano e quindi guardo le cose col sistema paese se la disoccupazione sale a quei livelli non è bello per nessuno scusa sono andato lungo Max però ti ringrazio dalla risposta assolutamente tema abbastanza come dire difficile volevo portarti la domanda di Francesco che giustamente la scrivi in chat ha ben chiaro come stai gestendo in un'azienda piccola qual è la tua visione organizzativa di una società grande da 200-300 persone qualora ne fossi il CEO cosa rimarrebbe e cosa no ma soprattutto la vorresti? allora beh io ho sempre dichiarato qual è forse fra tu lo sai già io ho sempre dichiarato che il mio obiettivo per Sensei è arrivare a 120-150 persone perché questo sul mercato italiano secondo me ci consentirebbe di tenere in piedi due cose importanti uno essere un attore credibile sui clienti che oggi facciamo molta fatica a raggiungere cioè quando noi andiamo a sederci a dei tavoli dove è già tanto che andiamo a sederci perché ripeto noi siamo 30 però ci sediamo con una dimensione così esigua di fronte a delle società tutto sommato abbastanza strutturate importanti e così via in Italia una società di 120-100 120-150 persone è già considerata tanta roba mentre invece se appena appena scavali le Alpi sei un signor nessuno per tornare a quello che dicevo prima e dall'altra parte secondo me riesce a tenere in piedi altre due cose uno la qualità di quello che fai chiunque di voi abbia approcciato un sistema integratore di quelli grandi dalle 5-700 persone in su sa che quelli rastrellano più o meno la qualunque e la qualità media delle attività è tendenzialmente imbarazzantemente bassa poi se volete apriamo un capitolo su come sia pensabile che strategicamente a proposito di software engineering culture com'è possibile pensare io sono fortemente convinto che ci vorrebbe meno gente a programmare perché ce ne sono alcuni che il cui apporto è negativo cioè quindi hai quattro persone di cui se ne togli l'ultima quella meno scarsa più scarsa le altre tre fanno di più che in quattro ma questa è la mia personalissima opinione da ex ex-opterista e dall'altra parte però quindi mi consente di avere un drappello di persone un drappello abbastanza nutrito scelto molto bene piuttosto coeso che lavora in maniera molto compatta e che però mantiene delle relazioni al suo interno che sono quelle che a me piace per cui sai chi sei sai come ti chiami sai anche chi ti sta sulle balle perché su un gruppo di cento persone è impensabile starsi tutti simpatici questo è è un mito che solo forse negli scout e in CL si prova a raggiungere secondo me senza riuscirci in nessuno dei due casi anche se io ho una storia un pezzettino di storia solo negli scout però ecco riesci a erogare veramente qualità scusate visto che è una società che ha fatto uno speech da voi Mondora è un modello molto interessante secondo me cioè io sono un grande fan di quell'azienda e mi piacerebbe pur non vivendo in Val Chiavenna Val Chiavenna giusto? Ricordo bene Valtellina Valtellina scusate pur non avendo l'azienda in Valtellina dove la qualità della vita è largamente superiore che a Milano però ecco quello è un modello che io trovo particolarmente interessante e a cui mi piacerebbe aspirare poi sono sicuro che guardati dall'interno hanno i loro problemi anche loro non penso che siano perfetti però ecco quello è un modello interessante quindi una società di 300 persone personalmente sono sicuro che non potrei avere il ruolo che ho quindi quello di CEO in una società di quella dimensione perché poi ci entrano dei giochi che a me non piacciono sinceramente cominciano le cordate interne cominciano i giochi di potere per farsi le scarpe tutto quello che tu Francesco lo sai che io combatto strenuamente e voglio proprio rasare a zero all'interno di Sensei cioè se io vedo una rivista in Sensei tu lo sai gli faccio la guerra perché sì perché rovina tutto è proprio il classico caso in cui una mela a marcia ti rovina la cassetta intera quindi su questo ce lo siamo già raccontati insomma è chiaro che quando scali la dimensione per forza quasi per forza di cose devi perdere a meno che vai su modelli di olacrisi e così via quindi io adesso continuo a parlare di aziende gestite in maniera tradizionale ok peraltro ho troppe poche non ho sufficienti conoscenze per parlare di olacrisi se non altro perché non l'ho mai vissuta ho letto ma non non è la stessa cosa che viverla però ecco appunto non riesco a immaginare meno un'azienda di quel tipo di dimensione non con questo ruolo magari se ne vedessi un pezzo più piccolo allora sì ovviamente quindi anziché CEO ci metti che ne so CIO allora uno dice vabbè o business unit director una business unit ma poi io sai che ho il problema ho il problema che dove entra la politica dove entrano tutta una serie di giochi di ruolo io faccio una fatica bestiale non ce la posso fare no no io vengo da un'azienda lo sai che è passata proprio da circa 150 a 300 e ha purtroppo patito quello che hai raccontato tu cioè si è passati da un'azienda seppur di una dimensione discreta perché 150 persone non era malvagia come azienda fatturava 30 milioni di euro 35 siamo passati a una realtà che dove appunto c'era un arrivismo estremo dove per la poltroncina quasi quasi politico ecco scusate aggiungo una cosa 17 anni fa io me ne sono andato da un'azienda in cui eravamo in cui avevo il numero di matricola 5 ed ero uno dei soci quindi direi tra i primi e eravamo a quei tempi poco più di 60 persone e c'erano già il direttore commerciale con la sua cordata e il direttore tecnico con la sua cordata ma che cazzo la situazione è fuori dalla grazia di Dio ho preso me ne sono andato perché non mi interessava di vivere quell'ambiente una cultura un po' particolare diciamo scusami? una cultura un po' particolare ma qual è la mia o quella là? quella là quella là quindesime ma proprio epsilon che tu dici ma di cosa stai parlando? cioè ma cosa ma qual è il potere che ti dà gestire sette persone anziché cinque? e la gente si scanna per sta roba ci vengono spese delle quantità di energie fuori dalla grazia di Dio in aziende piccole per ste cagate e devi stare attento a non rimanerci in mezzo se no ti schiacciano e il problema è il problema che ho vissuto io in quella situazione era veramente ridicolo perché io stavo fuori ma il problema è che quando la gente è gente ricordata non esiste il neutro esiste solo il o con me o altro cioè tu non vieni dichiarato neutro tu vieni dichiarato non appartenente a me e quindi anche se tu il tuo unico obiettivo è farti cazzitua e lavorare bene sei nemico di tutti in questo modo perché tutti ti vedono come non appartenente a loro che è una roba fuori dal mondo eppure vi assicuro che io questa roba l'ho vissuta certo volevo correggere con particolare non intendevo nient'altro che quello cioè una certa cultura ok Angelo prosegui con la tua domanda no la mia domanda mi sa che va a cambiare completamente argomento diciamo che passiamo da un ambito aziendale a un po' più agriturismo eh anche in parte sì io volevo volevo chiederti come ti è arrivata diciamo questa consapevolezza che tu hai della natura insomma questo modo di vedere anche le cose particolari diciamo così abbiamo avuto qualche conversazione mi ricordo e mi aveva colpito molto questa cosa e se diciamo questo tuo modo di vedere le cose poi lo riporti nel lavoro oppure è il lavoro che ti riporta anche dei feedback su questo allora la domanda è molto generica se riesci perché vabbè se vuoi ti racconto però faccio fatica allora vabbè nel 2003 quando me sono andato da questa famosa azienda io ho detto sai cosa c'è di nuovo io apro un ristorante vegano ero vegano da qualche mese e ho detto io apro un ristorante vegano che il 2003 vi assicuro era un'impresa sufficientemente ardita poi la cosa è durata pochi mesi il tempo di capire che era andata male ancora prima di aprirlo quindi furda ce l'abbiamo sempre sedendo di aprirlo un ristorante e quindi sono tornato nel magico mondo dell'informatica nel frattempo con la mia compagna però c'eravano detti ma scusami ecco un'altra cosa che a me piace molto a proposito di surfare e così via è che nei momenti di crisi di rottura qualunque esso sia io cerco sempre di rilanciare cioè raddoppio la posta questo mi sono reso conto che è un mio lato caratteriale ma non per sbruffoneria e tra l'altro non sono assolutamente un giocatore d'azzardo proprio una roba che non sopporto giocare d'azzardo ci giochiamo quando giochiamo a bigliardino la puntata massima di solito sono 10 centesimi con furda per esempio ma giusto perché io mi diverto hai perso già decine di euro tra l'altro a 10 centesimi una volta io sono difensore lui è attaccante allora mi metto in difesa lì contro di me e ci prendiamo un po' per il culo però dicevo e quindi con Stefania ci siamo detti va bene ma per un ristorante sarebbe stato un cambio di lavoro ma sempre a Milano perché non pensiamo non rilanciamo e pensiamo di cambiare proprio tutto quindi tu molli questo io mollo l'erboristeria che aveva lì insomma ci siamo messi a fare spugazze di coso che infatti dopo 9 anni dell'apertura ancora non ci dà da vivere ma questo è un altro problema per cui vabbè quella è sempre stata una parte una parte di me adesso dico la solita battuta sono di famiglia contadina come tutti perché due generazioni fa tre generazioni fa praticamente il 95% della popolazione faceva il contadino o viveva in campagna però boh semplicemente forse ti rendi conto che nonostante la percentuale di persone che si sta urbanizzando nel mondo continui a crescere non è una dimensione umana cioè Milano è un po' io sono lombardo di origine la mia famiglia i miei quattro nonni sono nati tutti in provincia di Pavia nella parte di Pavia che guarda Milano sono saliti a Milano i genitori sono nati a Milano sono nato e cresciuto a Milano quindi mi definisco milanese ma in realtà sono mezzo pavese quando mi dicono che Milano è un posto bellissimo per vivere io da milanese da quando ci sono nato io dico sempre guarda tu avrai anche ragione però spiegami questa cosa io conosco un sacco di persone che quando vanno in pensione vanno a vivere via da Milano non conosco nessuno che quando va in pensione viene a vivere a Milano ci sarà un cazzo di motivo per sta roba no? cioè non conosco nessuno che quando può scegliere senza vincoli per esempio lavorativi affettivi familiari sono in pensione io e la mia compagna siamo in pensione dove andiamo a vivere? c'è chi va in Portogallo c'è chi lasciamo perdere quelli che tornano a casa perché sono calabresi di origine quindi lì ma parliamo di gente che è nata e vissuta a Milano c'è gente che si toglie dalle balle conoscete uno che da qualche parte del mondo ha deciso di venire a vivere a Milano quando poteva a un certo punto andare altrove? io ne conosco pochissimi anzi oserei dire nessuno questo mi fa pensare al netto della battuta che Milano è un posto bellissimo per lavorare in alcuni settori ma dove la qualità della vita e delle relazioni umane a mio modestissimo parere è largamente largamente migliorabile e voglio essere positivo grazie Luca se nessun altro ha domande anzitutto sono le 8 e 10 vogliamo proseguire fino agli 8 e 20 io sono tranquillo però possiamo andare avanti sine die finché abbiamo qualcosa da dirci Mimma deve andare ciao Mimma ciao Mimma grazie ciao ciao grazie ciao c'era forse Michael che sarà pronunciato per un'ultima domanda sì ma se c'è qualcun altro cioè non voglio non rubare il posto non voglio rubare il posto a nessuno cioè io di cose ne ho da chiedere anzi Luca magari quando tornerai dalla tua vacanza lavoro ci becchiamo per una birra o non so quello che bevi sai bevi io sono pressoché analcolico bevo ma non per non per scelta etica che l'alcol tendenzialmente non mi piace per cui bevo mi piacciono i vini passiti i vini dolci quelli sì però vabbè non è che puoi bere una bottiglia di vini passito insomma cioè a me non mi capita spesso bevo ogni tanto un dito di birra però bevo lo bevo i bidrilli e i cocktail quelli sì magari non il negroni ecco però non il americano lo bevo volentieri qui no comunque se non c'è nessun altro ragazzi dovete essere un po' più proattivi la prossima volta se no siamo sempre noi tre quattro a fare le domande Antonello Giaga Maiara ma c'è Antonello? c'è Antonello ciao Antonello ma è quell'Antonello? perché non vedo sì sì è lui è il tuo Antonello ciao 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 vuoi chiedere qualcosa Antonello? no niente visto che nessuno ha niente da dire tocca a te no vabbè ormai con Luca figurati allora a chi ha avuto meno possibilità di insomma di parlarci di razionarsi insomma ci conosciamo tantissimo la mia domanda la mia domanda è su sulla gestione dello stress quindi non tanto come si come si fa a non finire in una situazione di burnout ma se ci è mai capitato come hai fatto a risanare la risanare e tornare in pista nuovamente allora guarda confesso una cosa che credo qualcuno sappia già io allora Sensei sono numeri pubblici i bilanci di Sensei li potete leggere Sensei esce esce è entrata nel 2020 dopo un 2019 complicatissimo in cui abbiamo perso il 20% del fatturato sono numeri pubblici ripeto quindi non c'è niente di cui vergognarsi non c'è niente da nascondere in realtà Sensei esce da 4 anni veramente complicati in cui non ho nessun problema a dirvi che io ho dormito malissimo praticamente tutte le notti da una parte lo considero un bene perché vuol dire che ho una coscienza nei confronti dei miei e che non tutto mi scorre addosso dall'altra parte ovviamente abbastanza pesante contrariamente a quello che potreste pensare non sono uno che fa yoga non sono uno che fa meditazione non sono uno che fa niente di tutto ciò anche se mi piacerebbe in realtà sinceramente non te lo so dire guarda forse la cosa che mi tiene tranquillo per quanto possa esserlo perché poi io veramente mi prendo carico delle cose ma tanto 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 e in questo sono un pessimo manager che doveva lasciarmi riscorrere di bestia forse è la assoluta coscienza di fare sempre il meglio che posso in una maniera il più nella maniera che io reputo il più pulita possibile quindi proprio il potermi guardare in faccia con serenità e sapere che anche se tutti mi giudicheranno una merda io saprò di non essere stato una merda questa roba per me ha un valore importante preferirei che anche gli altri non mi giudicassero una merda credo che sia come dire una massima alla catalano però io ecco rispondo molto a me stesso e in questo la fortuna di essere anche l'imprenditore oltre che l'amministratore quindi di non avere un mercato a cui rispondere da questo punto di vista per me è importante e poi boh questo direi sostanzialmente la serenità di dare sempre il meglio di se stessi per quanto il meglio non vuol dire bene cioè vuol dire io come dire per esempio sono un pessimo nuotatore io posso dare il meglio di me stesso nuotando ma non andrò mai praticamente da nessuna parte però cazzo mi metto lì e faccio il massimo ecco questo posso dirlo non sono veramente uno che si risparmia che non vuol dire lavorare 24 ore al giorno ho fatto anche quello e ho capito che è una cazzata ho capito che è una cazzata mi sono dato il limite quando sono a Milano di uscire dall'ufficio alle 7 salvo casi eccezionali e quello ho capito che non ha senso perché se ti chiudi degli spazi tuoi se non ti tieni lo spazio per leggere un libro per guardare un film per andare a cena con una persona lì va in burnout ecco quella è una cosa che ho rischiato due volte una volta un anno mentre studiavo perché volevo recuperare infatti sono finito fuori corso solo due anni ma va bene fa niente è un anno in cui ho creduto che lavorando massacrandomi fino alle 11 di sera avrò ottenuto qualche cosa lavorare all'infinito non vale quando fai software questo lo insegnano e non vale neanche quando fai management e questo non lo insegnano almeno a me non l'ha insegnato nessuno l'ho dovuto scoprire sulla mia pelle banalmente questo e adesso sinceramente da quando c'è anche qui la valvola di sfogo di poter venire a fare i lavori di campagna stare nel silenzio ad aprire la finestra e vedere la valle priceless veramente priceless cioè poter staccare in questo modo Stefania me lo dice sempre quando tu io ho questa fortuna in momenti di stabilità io comunque lavoro a Milano dal lunedì a giovedì parto il giovedì sera ho il treno alle 5 e un quarto arrivo qui alle 7 e mezza quindi faccio qua giovedì notte tutto sabato tutto venerdì tutto sabato tutta domenica riparto lunedì mattina ho il treno alle 8 e arrivo alle 10 e mezza in ufficio quindi di fatto faccio qui tre giorni e quattro notti Stefania mi dice sempre che da quando arrivo la sera del giovedì a quando parto la sera della domenica io cambio completamente le mie energie cioè proprio ti porti dietro delle robe brutte non saprei come definirle meglio da Milano dove c'è proprio questa brutta energia e quando sei qui la lasci andare ovviamente questo ciclo continuo è pesante sinceramente è pesante e vi devo dire la verità io il trauma grosso ce l'ho quando torno d'estate dopo l'estate da Milano magari sto un mese qua perché tanto ad agosto a Milano che onestamente cazzo ci sto a fare cioè se non ci sono i clienti e non ci sono i ragazzi io è inutile che sto in azienda da solo dopo un mese nel silenzio nella tranquillità tornare a Milano entrare in metropolitana e la gente che ti spintona io il primo giorno vado veramente via di testa vado veramente via di testa il consiglio è compratevi una casa in campagna grazie Luca poi non so se ti ho risposto Michele perché ho come stato io divago su mille cose sì sì assolutamente cioè ho capito cioè la mia domanda era quali sono i tuoi scudi con cui ti protegge da è la serenità d'animo la serenità d'animo nel fatto di dare il massimo e di essere disponibile e quindi la serenità con me stesso la serenità nei confronti dei miei a cui cerco di dare risposte e poi in cui la fortuna di avere una valvola di sfogo di tutta una serie di tensioni che inesorabilmente accumuli chiarissimo bene non vedo domande in chat io ne avrei una se nessuno si fa avanti proseguo io mi rilascio al discorso libri che l'hai accennato volevo chiederti qual era il libro che ti ha maggiormente ispirato e un libro che vorresti consigliare che vorresti consigliare il primo sicuramente è il Kamasutra ovviamente e perché anche va beh se devo spiegarti perché è affina amico mio quello che hai sperato ad aprire la tua azienda immagino allora c'è un libro che suggerisco a tutti perché è molto bello io credo che lo dicevamo prima i sistemi naturali siano una cosa da cui c'è tantissimo da imparare tantissimo da imparare perché adesso noi stiamo cercando di fare molto per devastarla ma se la natura è stata in piedi qualche miliardo di anni possiamo dire adesso faccio la battuta che è un'azienda che ha dimostrato di saper stare al mondo per lungo tempo c'è un sistema di progettazione dei sistemi c'è una modalità di progettazione dei sistemi naturali e anche in realtà delle relazioni umane che io trovo meravigliosa che si chiama permacultura che probabilmente molti di voi non conosceranno magari se la conoscono molto bene scusami ho sentito solo parlare e c'è un libro che vi suggerisco si chiama Principle and Pathways Permaculture Principle and Pathways Beyond Sustainability di David Holmgren che è il cofondatore della permacultura la permacultura è stata ufficialmente cioè diciamo il padre che tutti considerano è Bill Mollison in realtà è successo che la permacultura è stata la tesi di laurea di David Holmgren e poi giustamente il relatore si è preso il merito cosa che nessuno di noi ha mai visto naturalmente in vita sua però questo libro di cui vi suggerisco fortemente la lettura è uno dei pochi libri che ho letto due volte in vita mia ed è bello perché da veramente come dire ti dà secondo me una dimensione in più vi faccio un esempio molto stupido per farvi capire come a volte ci sono dei principi intelligenti che poi bisogna contestualizzare adesso va tanto di moda a parlare di diversità che è giusto io sono un fan assoluto della diversità io dico sempre alle mie persone di HR lo dico una volta in realtà perché poi siamo molto d'accordo su questo se arriva il CV di una persona straniera dategli un occhio d'attenzione in più che è il razzismo all'incontrario ma la diversità culturale secondo me è un grosso fattore positivo in azienda anche quando si fa software che sembra un controsenso totale ma io sono fortemente convinto di questa cosa che non vuol dire che assumo uno solo perché arriva dalla Giamaica o dalla Nuova Zelanda però l'idea di avere una possibilità in più di confronto anche sui temi della software engineering secondo me è interessante però la diversità deve avere un limite e questo la natura lo insegna bene se io prendo una pianta di ananas e la pianto a 1500 metri sulle Alpi non avrò frutto non avrò frutto perché è fuori contesto e quindi occhio a non esagerare con un concetto molto giusto che è quello della diversità portandolo a creare dei conflitti clamorosi per il solo piacere di essere diversi questa è una banalità un'altra cosa per esempio molto banale è quella del famoso bus factor sapete cos'è? sì immagino ecco quella è una roba che in natura si chiama resilienza o comunque è una roba che la natura attua da sempre da sempre ed è un principio che appunto noi abbiamo tradotto con quella parola ma non c'è nulla non c'è nessuna funzione in natura che viene fatta solo da una roba perché sennò chiaramente quello diventa un single point of failure e la natura non se lo può permettere ci sono sempre dei meccanismi di recovery di qualche tipo e così via e così via se avete un po' di tempo per leggere quel libro secondo me vi darà degli spunti non solo sul lavoro su tantissime altre cose vi ricordo che è un sistema di progettazione del territorio e delle relazioni umane e questa è una cosa che va ricordata sempre le aziende sono aziende sono come era individuals individuals and interaction over processes and tools qualcuno conosce questa citazione? era già il manifesto no? certo era una battuta suppongo che la conosciamo più o meno tutti qua dentro questa è una cosa fondamentale no? ma in realtà la cosa più importante sono interactions perché secondo me è molto più forte una squadra con ottime interazioni anche di individui un po' meno bravi che il contrario anche qui solito esempio banale se chi di noi ha giocato uno sport di squadra a livello dilettantistico sa che se arriva alla superstar e si mette a fare la superstar rompe i coglioni perché ti farà passare di categoria ma distrugge lo spogliatoio vi sto parlando di dilettantismo è chiaro che in serie A di calcio in NBA valgono logiche completamente diverse perché parliamo di professionisti ma chi ha fatto uno sport a livello di squadra a livello dilettantistico sa che un buon coach perché ha giocato a basket caccia quella persona a fine stagione e se ce la fa anche prima perché il suo obiettivo non è per forza passare di categoria perché tanto che giochi in prima divisione o in promozione cambia una sega se giochi in D o in C2 cambia una sega ma tu devi tenere unito lo spogliatoio quella e tradotto tradotto in senseese per me vuol dire che non me ne frega niente di fare il 10% di più di fatturato se io alla cena di Natale ho il 70% di persone che c'erano alla cena di Natale dell'anno prima che sono andate via quella è una sconfitta clamorosa perché a quel punto l'azienda è solo il suo fatturato e invece l'azienda è prima di tutto le sue persone e questa roba per me ha un valore vorrei essere chiaro le persone vanno via anche da sensei non è che anzi io sono un fan del turnover intelligente e positivo qualcuno invece lo spinge per il semplice fatto che è figo avere turnover non ho mai capito perché però ecco in un'azienda se tu vuoi dire che la tua azienda è fatta di persone e è un turnover troppo alto è chiaro che c'è qualcosa che non quadra perché poi perdi le interactions perdi tutta una serie di cose e voi che fate agile sapete benissimo che la stabilità del gruppo di lavoro è uno dei modi per portare valore aumenta la veloce e tutto quello che volete soprattutto le relazioni funzionano meglio bene allora io direi che abbiamo tempo per un'altra domanda se mai ce ne fosse oppure direi di andare direttamente ai saluti finali me la faccio faccio la marzullo e mi faccio una domanda da solo intanto proietto una slide se l'abbiamo un'ultima domanda oppure credo di no bene spiniti grazie mille Luca intanto di cosa figura in questa chiacchierata molto molto interessante e con voi gente anche perché abbiamo più o meno partecipato non tutti però comunque 4 o 5 abbiamo detto la nostra bene io tra l'altro adesso se volete proseguirla sapete dove trovarmi andate su linkedin e partiamo da lì dai senza farla lunga andiamo a fare l'indagine quindi non vuoi pubblicizzare il tuo agriturismo credo che ci sia su linkedin anche il nome dell'agriturismo ok però il problema è che è vegan quindi se volete venire qui faccio una bella mangiata di salumi parmessi invece no la puoi fare guarda 3 chilometri da qui la puoi fare qui qui la vedo dura perché finché ti scontri con me è un conto quando ti scontri con Stefania diventa complessa la questione no però comunque consiglio a tutti di vedere Luca in abiti da chef assolutamente guarda purtroppo sono al piano di sopra ma qua sotto c'è la cucina prossima volta mi metto la divisa da chef poi tra l'altro la ricetta che hai dato a Ivan se non mi ricordo male quella con i broccoli il peperoncino eccetera quella la pasta di mani io sono un carnaiolo di brutto però quella la mangerei volentieri quella è proprio sicuramente gustosissima ma allora invita dai che ti ho fatto un po' di pubblicità l'agriturismo non so che ha scritto invita c'è la vegan farm allora se volete venire a fare un giro e a farvi una mangiata prima di prima di venire vi suggerisco di andare su Gmail su Maps sul nostro Facebook e su TripAdvisor a vedere i commenti così considerate che qui comunque molte delle persone che vengono non sono non sono bag quindi troverete anzi alcuni lo scrivono per cui se volete venire a fare una mangiata ditemelo prima in realtà più di 10 persone non potrei ospitare però vabbè poi se siete 12 non succede niente se siete 50 non c'è spazio semplicemente me lo dite prima e ci facciamo una mangiata insieme bomba sì 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 lascio ancora qualche secondo la slide me la stai vedendo? dal casello di Meregnano ci vuole un po' meno di due ore ad arrivare qua nice esce a Parma? prego esce a Parma Nord? no prendi la Cisa la Cisa eh non si prende con Tremoli? no Borgotaro Borgotaro Tremoli 600 Scana sì vero esce esce esci tra Fidenza e Parma esci scusa tra Fidenza e Parma imbocchi la Cisa sali esci a Borgotaro e poi da lì 25 mezz'ora sei qua Luca scusa dipende quando parto per andare al mare dipende da che ora parto quando vado al mare se parto a un'ora che cade che a pranzo sono lì mi fermo va bene quando vuoi furda dimmi Angelo volevo dirti la vedi la slide che sto proiettando con i feedback che ti sono arrivati in diretta o te la mandiamo via e-mail così te la puoi incorniciare mi interessa focalizzato mi interesserebbe molto sapere chi l'ha scritto e cosa intendete l'ho scritto io Luca posso chiederti di spiegarmelo meglio sì certo volevo scrivere il comitato ma poi ho pensato di usare una parola italiana che andava bene lo stesso qui già c'è il sensei giapponese che ci rompe i coglioni no da riparare le tue parole di stasera mi è sembrato chiaro che tu avessi in testa comunque delle priorità anche riguardo soprattutto l'azienda la tua azienda anche in questo periodo hai detto che innanzitutto la sopravvivenza dell'organizzazione che serve a poi garantire la sopravvivenza delle persone che ci lavorano per te molto importante e anche altre cose che hai detto mi hanno fatto pensare a questa cosa focalizzata grazie prego fa piacere che l'hai preso come un complimento beh in realtà ero neutro perché volevo capire cosa tu intendessi però però sì cioè come come ho cercato di dire io mi sento abbastanza sul pezzo ma in realtà perché mi sento proprio la responsabilità di dover cittare cioè io cerco di ragionare così nella definizione della strategia cerco di coinvolgere più persone per il semplice motivo che quattro occhi vedono meglio di due sei meglio di quattro e così via poi il mio ruolo è cercare di attuarla quindi tenere giorno per giorno sotto controllo il fatto che dove stai andando veramente dove vi più o meno ipotizzato di andare e per questo devi guardarci bene dentro quella roba lì e poi essere in grado e adesso la cosa nautica la barca vela è l'esempio più evidente di capire i salti di vento la vera capacità di chi di chi va veloce in barca vela oltre ad avere la barca è di capire come tira il vento no e quindi di non come dire di non sbagliare rotta e di prenderlo bene e per far quello ci vuole una grande capacità che io non sono assolutamente convinto di avere e però devi star lì cioè devi pensare a quello scusate vai annunci Angelo puoi tenere un momento la schermata dei film